Costituito in Spagna nell'isola di Palma di Mallorca l'assassino dei due italiani uccisi ad Hannover lunedì scorso dopo una lite sulla nazionale di calcio. Sentiamo Mila Cataldo. La fuga di Holger Bay è finita. Si è consegnato alla polizia di Palma di Mallorca nelle isole Baleari il 42enne tedesco che lunedì scorso ha freddato a colpi di pistola due italiani in un bar di Hannover dopo una lite sui mondiali di calcio. Si è costituito e ha confessato ai magistrati spagnoli il duplice omicidio. L'uomo disoccupato, con problemi psichici, capace di reazioni violentissime se in preda all'alcol, era scappato a piedi dal bar dove lunedì mattina aveva ammazzato Giuseppe Longitano e Franco Siccu per poi fuggire nelle Baleari e trovare rifugio dal patrigno. Si è consegnato volontariamente Holger Bay nella tarda serata di ieri. Il magistrato, Orge Castro, ha deciso il suo arresto in via cautelare vista la gravità dei fatti commessi. Le autorità tedesche conoscevano l'identità del killer dei due italiani, ma non pensavano che potesse lasciare la Germania. Ecco perché in un primo tempo non avevano disposto alcun controllo sulle liste dei passeggeri dei voli in partenza dal paese. Una volta però scoperto che il patrigno del killer si trovava a Palma de Mallorca, erano state subito avvertite le forze dell'ordine spagnole e la procura di Hannover aveva spiccato immediatamente un mandato d'arresto europeo. Ora Holger Bay si trova in prigione a Palma, ma sarà trasferito a Madrid nei prossimi giorni in attesa dell'estradizione in Germania.